C'è stato un grande lavoro preparatorio per consentire di fruire in sicurezza il porto di Giulianova per questa grandissima manifestazione, tre giorni organizzati dalla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia con il patrocino della Marina Militare. Come ufficio circondariale marittimo e come comandante del porto abbiamo sicuramente razionalizzato gli spazi e creato le condizioni ottimali affinché questa festa possa essere vissuta nel massimo della serenità e soprattutto per sottolineare l'importanza che col tempo sta acquisendo il porto di Giulianova per tutta la realtà terramana e per l'economia del mare. E la guardia costiera è sempre più vicina alla realtà anche nei temi della sicurezza? Certamente noi siamo partiti da pochi giorni con l'operazione Mare Sicuro quindi tutti i temi della sicurezza, della fruibilità del mare e del vivere il mare in sicurezza sono al massimo della nostra attenzione. Infatti consigliamo a tutti i bagnanti e i diportisti di attenersi a tutte quelle regole che consentono poi di vivere il mare in sicurezza e in serenità per tutta la stagione estiva.